I maestri di normale li ricordo tutti benissimo, sono rimasto loro molto affezionato. Io seguivo naturalmente le lezioni di storia e poi c'erano anche dei corsi di filosofia e di lingue. Celeberi mi è rimasta la prima lezione di Fugoni che tra l'altro era appena arrivata in normale, che aveva vinto, credo proprio l'anno in cui sono entrato, la catena di storia alla normale. Fu celeberino perché entrò, eravamo appunto una quindicina del mio corso, eravamo una decina, poi forse c'era qualcuno dei corsi successivi. Ci guardò e poi con quest'aria molto signorile, un po' di superiorità, disse ma chi sono i cardinali? La cosa è che normalmente suscitò la cardinali? Vuole perché nessuno di noi si era mai posto una domanda così impreativa. E da lì incominciò a spiegarci chi erano e perché si chiamavano cardinali.